Passando al quadro elettrico, molti di voi, chi non l'ha visto lo invito a guardare i video precedenti, era a vicino casa, ho dovuto spostarlo qui così se devo fare manutenzione non devo andare avanti e indietro, perché vi ricordo che il mio impianto è a 100 metri da casa, quindi mettendo tutti i pannelli in serie, di potenza diversa, 100 metri di cavo, forse ho un cavo anche troppo sottile perché ce l'ho da 6, quindi secondo me è un filo sottile, 100 metri, io arrivo a casa che non perdo un watt, anche qui migliardi di video su youtube dicono che si doveva invece perdere perché dicono che più di 20 metri non si doveva mettere, insomma tutte le teorie che, come vi ho detto nei video precedenti, dalla teoria si fa la pratica, per quanto mi riguarda io non ho perso niente, quindi bravura o fortuna non ho perso niente, questo è l'importante. Ho portato la cassetta su, come potete vedere alla fine facendo il più e il meno si arriva qua dove avete, dove c'è il diodo è il più principale e questo è il meno principale, vi posso far vedere anche dentro, così guardiamo insieme se è tutto a posto di 60 mesi direi proprio di sì, e dentro niente ci sono i fusibili, c'è il magneto termico, c'è lo scaricatore che non si sa mai, qui c'è già stato diversi temporali, quindi quest'anno un tempo molto strano, temporali in montagna non si sono mai visti, però fulmini resta, dopo chiudo, e ho fatto lo scaricatore, l'ho messo dentro a una canalina, come potete vedere, si pianta per terra, ci sono tutti i ferri che danno per terra, così è in sicurezza anche questo, e quindi io direi che la parte dei pannelli non ho tanto altro da dirvi, basta, direi che è tutto in sicurezza, ho fatto anche lo scaricatore che molti di voi dicono, ma lo scaricatore è a casa non potevo farlo, non c'avevo una massa vicina, così adesso l'ho fatto io, ho fatto un tombino, ho piantato per terra, eccetera, direi che la parte dei pannelli è a posto, adesso vi faccio vedere che cosa ho fatto di fianco all'inverter, Per quanto riguarda invece l'aggiornamento qui all'impianto, ho cambiato il quadro elettrico della batteria, vi chiudo un attimo il discorso sui pannelli fotovoltaici, praticamente mettendoli tutti gli 8 in serie, ovviamente ho alzato il voltaggio, siamo andati a 2,90, adesso che è brutto tempo, ok? Vedo che arriviamo anche a 320, quindi sono compatibili tra di loro, ho risolto quel problema che vi dicevo, e su 3 kW di potenza, riescono a produrmi 2 kW e 5, che è più dell'80%, e quindi sono già molto molto contento. Diciamo che la parte dei pannelli fotovoltaici, con la sua cassetta, e lo scaricatore l'ha messa a terra, eccetera, è completo. Adesso col tempo, nei prossimi anni, o se dovesse aumentare la bolletta della luce, insomma è un attimo che dai 3 kW passiamo ai 6. Poi, per quanto riguarda le batterie, chi non ha visto e non sa come era prima, lo invito ad andare a vedere i video, prima avevamo un bel fai da te, però diciamo molto garezzo, adesso l'ho voluto mettere in sicurezza, quindi mi sono assicurato che tutti i cavi fossero dello stesso spessore da 35, e le ho messi tutti della stessa identica lunghezza, visto che consiglio di mettere tutto uguale, così ho fatto. Detto ciò, niente, si esce dalle batterie, si entra nella morsettiera del positivo, ho messo il fusibile, da lì al magneto termico, il negativo, morsettiera del negativo, ho messo uno shunt nel, diciamo qui così diventa generico, quindi non mi conta solo la singola batteria, ma quando andremo a montare più batterie, lì man mano le vedrò. Quello lì è uno shunt da 350 ampere, quindi fino ai 350 ampere diciamo che me lo dovrebbe leggere, 350 ampere di batterie, completare questo lato qui vorrebbe dire avere tra i 15 e i 18 kilowatt, e inizia ad essere un'altra musica. Comunque niente, andiamo al magneto termico, e dal magneto termico ovviamente andiamo dentro all'inverte. Ho già fatto tutti i test, ovviamente il batteria lo vede, non ho avuto un intoppo, sinceramente non ho avuto un problema. E cosa ho modificato? Ho cambiato il fusibile, da 500 ampere l'ho messo a 150, ricordo che la batteria è da 105, quindi ho voluto mettere 150 di fusibile, 150 di magneto termico, e quindi ho tutto equilibrato, per quello che dico che è un po' più professionale, così se dovesse esserci uno sbalzo, adesso si che entrano in azione tutti i fusibili subito. E' passato anche qui un mese, e per il momento non c'è stato problema toccando ferro. Se vi state chiedendo cos'è il secondo magneto termico, che in questo momento è spento ed è staccato, sarebbe quello per l'eolico, ma qui è un altro discorso. Per il resto, ho messo la cannalina sotto, come vi avevo fatto vedere, il quadro elettrico. L'impianto è completo, adesso chiuderò le cassette, il display lo incasserò dentro al coperchio, così non c'è neanche quel filo lì, tutti i fili spareranno, adesso la parte della batteria è completamente in sicurezza, e mi pare già un lavoro un po' più professionale. La parte dei pannelli fotovoltaici è in sicurezza, quindi a posto, l'inverter è a posto, direi che l'impianto adesso ha preso completamente forma. Se prima ero un fai da te con l'ABC, diciamo che adesso andiamo da là alla Z. Niente, come vi ho detto, quando poi si comprando nuovi pannelli vi farò vedere, ad oggi non conviene, perché noi comunque paghiamo 0,20 al kilowatt, e quando dico 0,20 vuol dire prendere la bolletta, quello che si spende, e si divide per i kilowatt di consumo. Quindi, è incorporato le spese fisse e il canone tv. Quindi io vi faccio proprio un calcolo di tutto, e compreso tutto fisso, corrente elettrica e canone tv, si paga tondi tondi 0,20 kilowatt. Finché rimane così, come vi ho detto anche in altri video, cerchiamo di spendere il minimo, facciamo l'impianto, adesso almeno c'è un impianto di base, se volessi aggiungere una seconda batteria posso farlo al volo, se volessi aggiungere i pannelli fotovoltaici posso farlo al volo, insomma l'eolico posso farlo al volo, ecco. Quindi per il momento, non ci conviene andare a spendere dei gran soldi, avere fretta. Piano piano, quando la roba è in offerta, la compro e aggiungo come ho fatto. Quindi ora abbiamo un impianto da 3 kilowatt, una batteria da 100 ampere, un inverter da 6 kilowatt ed è tutto completamente in sicurezza. Come ho già detto nell'altro video, tanti o pochi, qualcosa si poteva spendere meno, però è sempre costato meno che chiamare una ditta. E oltretutto se c'è un problema, so dove metterci le mani, questa è una parte molto importante. Per il resto, niente, se dovesse esserci aggiornamenti, vi farò dei nuovi video. Ciao a tutti!